Ciao a tutti e bentorni sul canale, oggi vi farò vedere alcune delle razze giapponesi. Questo è il famosissimo Akita, poi c'è il Kai, il Kishu, lo Kaido, lo Shiba, lo Shikoku, lo Spitz giapponese, il Terriè giapponese. Queste erano le razze, ma ora vediamo quali sono i punti comuni di questi cani. Quindi, innanzitutto la taglia, che è circa dai 30 cm, mentre alcuni arrivano a quasi 70. Hanno in comune di essere monumento giapponese, naturale ovviamente, e anche il fatto di avere un carattere abbastanza indipendente. Sono praticamente tutti nati per essere cacciatori. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e notifiche per la campanella dei prossimi video. E ditemi se c'è qualche razza che vi ha colpito e che vorreste vedere approfondita, perché la porterò sul canale. Ciao!